Care amiche, in esclusiva per voi i miei splendidi abiti della nuova collezione 2018. Care amiche, vi ho portato una splendida creazione 2018, un abito meraviglioso in organza di Settapura, vieni Matilda, facciamolo vedere alle telecamere, un'organza meravigliosa e un Vual di Settapura, la migliore organza che c'è, con una bellissima fascia alla vita e poi ha un motivo nella parte dietro dell'abito, guardate un motivo fantastico per una bellissima foto fatta sul sagrato della chiesa, guardate che bello. È un abito meraviglioso nella tradizione sartoriale italiana classica.